Archiviata la buona prestazione di domenica scorsa contro il Catania, la San Cataldese tornerà in campo per la quindicesima giornata del campionato di Serie D. La squadra allenata da Pietro Infantino giocherà in trasferta sul campo della Mariglianese, ultima della classe. Impegno insidioso per i Verdi Amaranto, chiamati a una prova di carattere. In palio punti pesanti per la salvezza. Ora c'è una partita con la Mariglianese che è ultima, per noi sarà lo stesso, andiamo lì a fare la stessa gara che ha fatto col Catania, perché se cambiamo atteggiamento si diventa un po' presuntuosi, si sta lì sotto e questo è un convito nostro. Il quadro completo delle partite in programma. Catania-Realaversa, Sant'Agata-Canicattì, Cittanova-Castrovillari, Licata-Trapani, Locria-Cireale, Paternò-Lamezia, San Luca-Ragusa, Mariglianese-San Cataldese, Vibonese-Santa Maria. Nel campionato di eccellenza la Nissa si appresta al debutto sul nuovo manto sintetico dello stadio Tomaselli. I biancoscodati, reduci dalla sesta sconfitta stagionale a Leonforte, vogliono tornare alla vittoria. Servono i tre punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica, ma non sarà facile. Siamo felici, siamo contenti, abbiamo voglia di giocare già in questo campo che è bellissimo, che è un'altra categoria. Ci siamo allenati, la verità è che è un campo che ci fa impazzire, che si può giocare un calcio vero. Fortunatamente ce l'abbiamo noi e aspettiamo che tutta la gente fa come ha fatto finora e ci accompagni questa domenica pure. Vi invito a venire a goderci questa partita in questo campo che è bellissimo. Penso che i tifosi sono di gran aiuto, penso che qua in casa noi abbiamo fatto un fortino, anche se ci è toccato giocare al Palmin Telli, penso che là ci siamo andati benissimo. Penso che questa domenica inizieremo un bel percorso qua al Tomaselli. A Caltanissetta arriverà il Mazzara, una squadra in crescita che punta ai primi posti della graduatoria. I Canarini, che domenica scorsa hanno superato ampiamente lo Sciacca con un perentorio 2-0, inseguono l'ottavo acuto, il quarto fuori dalle Muramiche. Una squadra da rispettare, una squadra che ha fatto dei punti, che ha delle sue armi, però noi pensiamo a noi, pensiamo a fare bene e penso che se noi facciamo vedere la Nissa che si ha fatto vedere con altre squadre che sono lassù, penso che ci darà soddisfazione. Tutte le partite della quattordicesima giornata. Castellammare-Sciacca, Parmonval-Enna, Acragas-Don Carlo, Casteldaccia-Leonfortese, Profavara-Cus-Palermo, Oratorio-Resuttana, Mazzarese-Gela, Nissa-Mazzara.